Musica Tra gli italiani a bordo della Costa Allegra la deriva da ieri al largo delle Seychelles. Ci sono Angela Tortorella e Fabio Parrini, due giovani fidanzati pugliesi. Lei lavora in costa da 5 anni come capo animatrice, lui è DJ dal 2008. Abbiamo intervistato Luigi, il fratello di Angela, che ci ha raccontato dell'apprensione delle ultime ore. I miei genitori si sono messi in contatto con la Costa Crociere, li ha assicurati sul fatto che tutti i passeggeri a bordo fossero tranquilli, ci essessero bene, quindi più che altro il problema è ovviamente non poter comunicare direttamente con lei. Però stiamo seguendo la questione e aspettiamo un po' di parlare direttamente con lei sulla questione. Da quanto tempo Angela è a bordo della Costa Allegra e qual è la sua mansione a bordo della nave? Lei è capo animatrice e sta a bordo da fine ottobre, novembre penso. Tra l'altro fra un mese dovrebbe rientrare, quindi questi sono i tempi diciamo. Da quanti anni Angela fa il lavoro di animatrice sulle navi della Costa? Cinque anni. Cosa le diresti? Chiamaci, facci sapere, perché comunque siamo in apprensione, siamo più tranquilli, però ti ho detto ovviamente fino a che non sentiamo la sua voce non riusciamo a capire che è tutto a posto. C'è ancora quella tensione minima che verrà colmata solo se la sentiamo alla fine.